ciao e bentornati sul canale bentornati sul canale questa si muove allora buongiorno ciao sarah zuru mega gross mini ovvero noi abbiamo fatto un sacco di cibo in miniatura e questo è sono delle cose schifose ecco quindi c'è del cibo andata male degli oggetti caduti dentro qualcosa di schifoso c'è anche il sushi è andato a mare con le mosche ma che schifo però allora io voglio o il sushi o questo cioè magari c'è una checklist la vediamo dentro cinque sorprese come tutti di zuru apri tu con estrema calma penso che faccia piacere molto asmo da sentire tac 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 vai ok un pezzettino di un centimetro è stato tolto andiamo col secondo adesso si spacca tutto ok lo sfogliamo quindi e vediamo che cosa troveremo comunque non è divisa stile arancia come no no ho visto un altro video dove l'aprivano proprio perché noi l'abbiamo visto proprio da un video e per esempio dentro ci sono tre bustine in ogni pallina ci sono diciamo tre personaggi diciamo tre cibi beh li chiudono bene in compenso questo devo dire questo è sicuro adesso comincio io a fare tac 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 e in ognuno ce ne sono tre più una bustina di slime che noi non apriremo perché erano i paschi prosali esatto ah quindi le cinque sorprese in realtà eh sono tre perché una no perché questi sono gli zuru non sono i i cos'era i quegli altri i toi mini brand ok allora andiamo a vedere prima la cella quella è la bustina di slime questa è la bustina di slime fatto come se fosse volito c'è un adesivo un adesivo di rough stuff e queste sono le varie sorprese queste sono le speciali brillano al buio no cosa che hanno puzzano no dai allora vai avanti allora io voglio questo l'unhappy meal unhappy meal o la pizza e anche la redbull è meravigliosa il panino con le mosse io voglio il sushi il sushi è andato male aspetta questo cos'è è un funko pop un funko pop fa vedere è un funko pop un funko pop di una cacca non ci posso credere il dollaro lo voglio assolutamente e anche il ragno bellissimo è un bitcoin comunque il ragno con le uova è bello c'era anche la pizza con gli occhi dov'è il latte no 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 gira gira ah ecco il latte col topo all'interno il latte col topo effetta questi cos'è che sono sic tac che sono tipo dei vermi al posto delle sic tac c'erano anche dove è la pizza con gli occhi io l'ho vista in un video è qua è qua cioè è qua ah ok e avevo visto che brillavano al buio ma magari mi sbaglio vabbè super rari sono questi due e i noodles sono tanta roba però quindi andiamo questo è un sacchetto dell'immondizia non ci credo e vedete le tre bustine sacchetto dell'immondizia fantastico ok e il primo è il dentifricio con cacca e vermi terribile ma è bellissimo è fatto veramente bene è spettacolare oh io voglio il latte col topo sappiatelo veramente piccoli eccolo qua terribile meraviglioso mac go non lo riesco neanche a leggere patatine andate a male del mac diciamo si mac scritto in maniera diversa ma patatine andate a male e e e abbiamo trovato uno dei rari uno dei rari e tra parentesi forse anche il più bello dei rari sei sicuro i noodle cioè il cucchiaino si è piegato e la forchetta ma sicura che non ce ne sono altri di noodle così che belli ma il noodle a parte la forchetta che si è un po' piegata quello anche normale sentiamo se aspetta no questo non profuma questo neanche di gomma e il cucchiaino si è un po' piegato però bellissimi con dentro delle schifezze terribili mamma mia che sarebbero belli anche normali ma in questo caso sono ne abbiamo un'altra confezione e non andremo oltre su questo non ci piove mettiamo tutto nel sacchetto delle immondizie e buttiamo aspetta fa vedere un attimo mi sa che sono quelli non rari perché non ho capito la differenza sono letteralmente uguali e allora perché? beh bisogna leggere tutto adesso con calma andiamo a leggere aspetta te lo fa vedere anche in a checklist e ti dice che quei due sono rari ok bene bellissimo bellissimo quindi una cosa diversa da solito vi ricordo di iscrivervi al canale mettere like condividere i commenti schiacciare la campanella per sbagliare tutti i video e come sempre noi vi salutiamo ci vediamo nel prossimo video ciao ciao